Quella è la stessa cosa di Fallout 76 che dopo 3-4 anni, eh ma adesso è completo, eh cazzo sono voluti solo 4 anni. Questo discorso andrebbe anche espanso tipo a CD Projekt, eh, perché CD Projekt c'ha una forma mentis un po' differente, ma CD Projekt fa la stessa cosa, eh. Io non mi dimentico The Witcher 3 al lancio che faceva cacare e per farse perdonare hanno fatto uscire un DLC con cui poi hanno fixato tutto. Cioè The Witcher 3 prima di diventare The Witcher 3 ci ha messo un tot, ma come sta succedendo pure per Cyberpunk? Io lo dissi 3 anni fa o 2 anni fa o quando cazzo era, aspettate perché Cyberpunk quando faranno la stessa cosa che hanno sempre fatto e diventerà il gioco completo. Quella pure non è una cosa buona, però purtroppo a differenza per esempio di Bethesda, CD Projekt viene sempre vista come il paladino, perché effettivamente poi ha sistemato le cose, ma quella comunque sulla carta non è una cosa buona, eh. Cioè far uscire un gioco incompleto, però dici perché poi ce la vogliamo, no. A sto punto fai come Baldur's Gate, mi fai giocare l'accesso anticipato, nel mentre lo sviluppi e poi esce. Se proprio devi fare sta puttanata. Adesso devo uscire la patch per il DLC di Cyberpunk. Ma il fatto è che quella è una roba che, io ve lo dico, Cyberpunk lo porteremo in live. Io in tutti questi anni non l'ho giocato neanche per cazzi miei troppo, io so un cazzo di Cyberpunk. Perché io stavo aspettandosi di, quando veramente, insomma parla dei 2-3 anni fa, dissi quella cosa, non è che stava a scherzare, no? Io durante tutti questi anni sto aspettando che esce effettivamente Cyberpunk, perché tanto lo sapevo. Lo fanno sempre. Lo sapevo che la CD Projekt avrebbe fatto. Come ha fatto con The Witcher? Ho aspettato. Non mi so spoilerato niente, non so un cazzo, bene o male, e basta. Ma no, ma il fatto è che in tutti questi anni, so, Cyberpunk l'hanno patchato, su patchato. Hanno aggiunto le robe. Da quel che ho capito c'è il sesto skill tree. Sì, ci stanno tutti i gadget nuovi, i cazzi e i mazzi nuovi. Non sarà mai come doveva essere, ma io ripeto, in realtà il problema di Cyberpunk era anche per come si era posto, eh. Perché Cyberpunk, io, madonna, so, le riminescenze delle clip di due anni fa. Come dissi anni e anni fa, Cyberpunk purtroppo si è presentato di merda. Perché Cyberpunk si è rappresentato come un CRPG dove tu puoi fare tutto quello che cazzi vuoi. Tu forgi, vai, tu personaggio, tu ha Night City, ci sta. Can you live, che fa boom, boom, bang, bang, tu fai, tu stai così. Eh, vai, la madonna, Gesù Cristo. No. Era niente più, niente meno The Witcher. Dove tu giochi un personaggio che c'ha la sua mente, gli puoi dare delle sfaccettature, puoi fargli fare gli svincoli. Basta, non è un CRPG. Cyberpunk si era posto, paradossalmente, come Baldur's Gate 3. Non è sto Dio, eh. Cioè, loro hanno detto sta cosa. Gioco di ruolo, loro. Hanno fatto, purtroppo, la sgarata nei pantaloni come fece No Man's Sky. Perché No Man's Sky è 75.000 pianeti for... Ce ne stavano due tipi. A metà non erano esplorabili. Cyberpunk, per me, sarà uscito tra un anno. Guarda, se proprio voglio fare la memata, 2044... Ha 40 anni, ragazzi. Gameplay di Cyberpunk 2044. Entriamoci. È pieno di bug. Tra 20 anni. La gente che esplode. La roba che viene ucciso dalle buste della spesa assassina. Ma è mai successo, ragazzi? Io mi ricordo, prima volta, nel corridoio, proprio fuori dalla porta di V, c'era quel bug di merda che se tu toccavi qualsiasi cosa per terra, questa rischiava di fare... Partire come un razzo atomico e ti shottava. Sono stato shottato da una busta della monnezza. Fortissimo. Sono partito. Boom. Morto. Ecco. Non so come cazzo era possibile. Sì, sì. All'epoca era veramente... Era come Skyrim. Era come le prime versioni di Skyrim. Che era proprio... In ogni momento il gioco dice... Mo' esplodo. No, no. Mo' esplodo, porco Dio. Cioè... Qualcosa si doveva buggare. Non spawnavano le luci e le persone. E le scritte per terra. Andavi con la moto e investivi 10 persone perché non erano spawnate. Un po' un'ade.